salve a tutti ragazzi video misterioso registrato un'auto che investe qualcosa che non c'è c'è qualcosa di paranormale almeno io ho visto una un'anima nera un'entità un fantasma non so come chiamarlo ragazzi comunque qualche cosa di paranormale qui vedete proprio l'ho fatto al massimo dello zoom e al massimo dell'allentatore più di questo non potevo quindi l'ho rallentato al massimo l'ho zoomato al massimo ragazzi quello che si vede è quest'anima nera che attraversa la strada e quest'auto ci passa sopra ma in effetti non ne ha fatto nulla perché è qualcosa di incorporeo come sempre ragazzi lasciate il vostro commento come ben potete vedere stanno cercando questa persona che poi non esiste mi raccomando lasciate il commento il vostro giudizio fake no fake reale anima quello che volete e come sempre ragazzi vi dico al prossimo video ragazzi ma soprattutto al prossimo mistero